Ciao, mi chiamo Rosario D'Ancredi, ho 55 anni e sono di Roma. Io sono più brava, più brava di tutte. Ma non io per voi, amico per me, il film è vostro. Questo è per Lino e questo è per Greg. I profili? Fate un po' la pallonarica? Ah, la mia agenzia è la cantera magica.